Bene, oggi sto provando PowerPoint per fare delle presentazioni registrate da condividere con i miei amici di Punta San Giuliano e mi sono esercitato riproducendo lo scoprirsi del fondale al variare della marea di ieri 19 febbraio 2018. Ho preso la marea di Ispra dal sito dell'Ispra di ieri, l'ho ingrandita e ho segnato i valori orari, questi valori di livello si presentano con mezz'ora di ritardo a San Giuliano. In questa maniera quindi se noi andiamo avanti vediamo che alle ore 8 di Punta Salute, della marea di Punta Salute, questo livello lo troviamo alle 8.30 circa a San Giuliano e qui abbiamo questo fotogramma. Allora, se noi guardiamo ora velocemente questi fotogrammi uno dietro all'altro vedremo scoprirsi il paesaggio lagunale retrostante. e quello che è interessante sarà anche vedere come si muove la piattaforma rispetto alla bricola, come si scopre i pali qui del traversamento del cavo e la fascia nera, il livello dell'acqua rispetto alla fascia nera. Questa marea è riferita al medio mare attuale, quindi 30 cm sopra lo zero storico di Punta Salute, per cui vedremo un'oscillazione che interesserà pressoché tutta la fascia nera, verde diciamo che è il comun marino, più un 10-15 cm superiore al comun marino, che è la fascia anch'essa umida ma non che presenta le alghe. Per cui potremmo esercitarsi a fare l'occhio di leggere la marea con questo video guardando la linea verde e guardando soprattutto la penisola e le spiagge dell'isola delle Garzette davanti a San Giuliano, quell'isola che secondo alcuni è responsabile dell'interramento dei fondali nella parte retrostante. Andiamo avanti. La marea sta crescendo e l'isola si riduce. Vedete il pontile, il pedana si alza, 3, 4, 11, 18 cm, 23 cm, ecco 30 cm, questa è la media delle alte maree, quindi l'isola è pressoché tutta scoperta, 26 cm, 24, 20, 15, si scopre di nuovo, 6 cm, 3, intorno al medio mare, mare, questa è la situazione, medio mare attuale, 11 cm, meno 19, meno 27, meno 34, questa è la bassa marea ordinaria, quindi vedete che la situazione è davvero critica a San Giuliano con tutta questa zona ormai che si sta interrando. Una cosa interessante, vedete qui, si vede il richiamo dell'acqua. dei nuovi varchi che sono stati aperti, con una marea non molto importante, è un pochetto di bora che aiuta, che non fa male, c'è una bellissima circolazione d'acqua che pulisce il fondale e riduce l'interramento della punta, quindi già i tre varchi delle ferrovie che sono state aperte stanno dando un effetto positivo. Buon pomeriggio.